E' stato un panificatore che si trovava nella zona poco dopo le 5.30 ad allertare i proprietari. Le fiamme stavano avvolgendo il locale Tanghera in una contrada fiammina morta a Gela. Giunti sul posto i fratelli Roberto e Maurizio Satorini si sono trovati dinanzi ad una impressionante devastazione. Mani ignote poco prima avevano appiccato il fuoco, il larrogo ha divorato un'area di circa 500 metri quadrati. In quel posto, fino a ieri sera, insisteva una pizzeria. Tutto distrutto, non è rimasto nulla. Tavoli, sedie, suppellettini ridotti in cenere. I danni, non coperti da assicurazione, sono ingenti, così come dimostrano le immagini. I vigili del fuoco del locale di staccamento hanno dovuto lavorare alacremente al fine di spegnere le fiamme. L'indagine è curata dai carabinieri del reparto territoriale agli ordini del comandante Valerio Marra. Un incendio di proporzioni enormi che avrebbe potuto creare danni ancora più ingenti se in quel momento, come dicevamo, un panificatore non si fosse accorto di quanto stava accadendo. Proprio un anno addietro, era il 14 febbraio, ignoti appiccarono l'incendio nell'area interna nei pressi della piscina distruggendo un gazebo. Tre anni prima, il 7 giugno del 2012, fu presa di mira la biglietteria del locale. Il fuoco, in quel caso, interessò anche una vettura che era in sosta nelle vicinanze. Il tanghera è uno dei punti di ritrovo maggiormente affollati da giovani del comprensorio. Indagini febbrili per dare un nome ed un volto a chi ha agito la scorsa notte sono state avviate, come dicevamo, dai carabinieri.